Musica Ciao a tutti e sono le web e siamo in coda qui sulla rissa settimanale di Overwatch Perché? Perché voglio provare Ana e non voglio provarlo in un game dove tipo c'è tanta altra gente Quindi praticamente in questa modalità possiamo giocare Ana e i tank Holy shit qui non entriamo da nessuna parte Qui non si finisce da nessuna parte Comunque se vedete che sono a livello 21 o giù di lì è perché non merdo tanto su Overwatch No Che cazzo Oh vabbè mi fa piacere che ho trovato finalmente gente che parla però andiamo Ma abbiamo gente? Abbiamo una fucking diva qua davanti Non so cosa devo fare Curo gente Perché io? Perché io? Che cazzo è successo perché sono qui Aia Mi sa che ha preso la player of the game Dai eh Si pusha poi Via via Frega metti di tutti A conquistare il punto No 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 Help Help Oddio ha funzionato Non ci credo sono ancora vivo Non ci credo ha funzionato Che cazzo era? Che ha poca vita Ah hanno preso un wind No Nerd this no No Holy shit Holy shit Cos'erano quelle Ma Hanno utilizzato D'ultima dimostra Si Holy shit Uno snipe Come double kill? Come double kill? Sto cercando di curarti Ho capito Ma quanto parola Curerò E me lo aspettavo La priorità di una diva Perché Dai Ma sul serio Questa diva Era qui a Livellarsi tutti E nessuno se n'ha accorto Siete seri? Rip Perché Anzo? Ma cosa si serve un Anzo Se dobbiamo attaccare Adesso? Non so benefits E' Se Se Genji Se Anzo Cambiasse Personaggio Mettesse un personaggio d'attacco qualsiasi, uno qualsiasi mi va bene o forse un altro support no, preferirei un altro support dato che Anne è buona sì, però non è 100% affidabile ecco lol ok, non so cosa voglio dare ecco potrebbe avermi rubato la player of the game, sì mi ha rubato la player of the game che palle neanche questa gioia ma toglilo quella zanzi sei inutile, che cazzo hai fatto sto game non ti ho manco visto aiutare ok buona questa ultima no porco dio di Anne manzo vi prego provalo a colpire almeno no chi se ne non mi sto qua a sparare perfetto buonissimo 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 questo fight è stato buonissimo sono venuti tutti a morirci come degli idioti e cosa non mi va se è bello quello di Fraser intendevo dire perché su di me tutti grande riesci riesci non l'ho preso oh mi sono presa mi sono presa yes 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 grazie 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 vi amo anch'io ragazzi vi amo anch'io grazie l'hanno tutti leftato da loro bello 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 ho dimenticato di equipaggiare la cb oh che dolce mei perdiva second best ship palle una volta che raynard ti prende un fastidio oh tu vivi così vabbè che sfiga che c'ho un colpo oh 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 mamma mia se c'è una cosa che odio sono le simmetria che ti baitano nelle loro frappole dov'è la puttana easy nooo 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 non ci servono due sniper non ci servono due sniper non ci servono due snor uno basta e avanza uno basta e avanza si sa giocare anche loro che cazzo se ne fanno di una widow maker in attacco dovevo ricaricare cazzo e non ero abbastanza vicino per fare il melee quindi non ci ho provato però non penso fosse abbastanza vicino c'è c'è lo spinto indietro invece che spingerlo indietro avrei dovuto continuare con gli attacchi normali che cazzo widow maker però fatti cazzo i tuoi e questo perché non prendi gli sniper in attacco quando è che la gente lo capirà? probabilmente mai ooo ok ooo gritta nella back line ooo guardalo 43 per cento dei danni subiti mamma mia ste cure chi altro te le da Ah merci, però chi altro te le da Ma Morto No, cazzo, ma quale Doku Ok Allora vado a fare un favore al nostro Anzu Ricordate ragazzi Queste cose qui Se siete Un fucking sniper Vanno distrutte Ok Sono un coglione, sapete Ho sbagliato completamente i pulsanti Volevo distruggere Volevo distruggere una cosa Ecco quella roba lì, però È andata male Perché ho premuto la E A momenti premevo anche lo shift Dovevo fare così Merda C'è Reinhardt Mi ha tolto Vabbè colpa mia che non mi sono messo nel ghiacciolo Anche Volevo troppo quella kill Sono stato troppo greedy Troppo troppo greedy Devo essere più Glaciale Capisa perché sto giocando mei Non volevo screare Sono un coglione Ok Ho dovuto avanzare sotto nei piedi Ho dovuto fare una cosa Ho dovuto fare una cosa Del serio del genere Per portarmi sopra Cazzo Devo smettere di buttarmi così Da solo Contro 3000 persone Non sono il tank Da così Sono un coglione Da dove Mi ha ucciso lo cyber Ma da dove E io non posso Non posso rivedere Quelle replay Che palle No Scappa 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 piccolo coniglietto Scappa piccolo coniglietto Aiuta Aiuta lupo lucio Aiuta lupo lucio 10 10 è morto Cazzo 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 Mi è andato bene Spero però che Li abbiamo distratti abbastanza Per il nostro No A tanto pare no Da quel che vedo Appunto Nessù il Txinko Ah io te lo distruggo Non ti preoccupare Bravo coglione Dessi 10 Non ho beccato Nessuno Vero No C'era lo scuola di Reinhardt Vado in giro Mi sarà la gente Oh se la fanno In grè Che pa Che palle Zancra Proprio lì Da tutti i posti Le aveva stilato pure la cura Dai Siete seri Nessuno Nessuno sul Packing Basto Ah che alto è notato Nessuno Ok Fossi morto un po' più tardi Avrei avuto Avrei avuto Un spawn Più decente E invece Neverlucky x5 Easy Impresa sbloccata Nivello 25 Ok Quindi si se l'ho fatta Alla fine l'ho uccisa La signorina Cosa Nivello 25 Ancora nessuna skin Per i suoi Per i suoi Eroi preferiti Deposito Apre portiere Uh No Cazzo non è abbastanza Peccato Questa la metto Anche se non gioco Questo Non mi piace Questo la uso Questo ce l'ho già Allora Dovevo Viva Spray Eccoti Guardate la cbdiva Con la testa Cremi la volta Più grande Del corpo Mentre qui Cosa abbiamo Cbmei Oppure Pixelmei Tengo questa Perché You know Plot Plot intensifies Plot intensifies E poi comunque La faccia molto Da You mad bro Quindi Me 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 Intensifies Comunque che si Cioè Io volevo comprare Questa Questa skin qui Di 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 diva È bellissima L'adoro Mi piace Tantissimo So che è tipo Solo un recolor Però mi piace Anche Cioè Se non compro Questa Comunque al massimo Prenderei la Scarabeo Perché L'ape La rottame La junker Non mi piacciono Per niente Mentre per Il signor lucio Sinceramente I suoi modelli Nessuno mi piace Forse Forse al massimo Prendo Questa Questo è il massimo Che potrei prendere Basta Basta Il resto mi fa Sinceramente Molto schifo C'è la versione gialla Del recolor No Quindi proprio Ancora più schifo Che schifo Comunque Questa serie di video Che cercherò di Compattare tutti In un video È finita Perché Volevo arrivare Al violo 25 Facendo tanti Bei video Quindi Spero di non aver fatto Un video di tipo Preore No Perché tanto Ogni game Sarà stato Sette minuti E comunque Ci sono delle cose Che non sono state Interessanti Quindi quelle le taglierò E metterò tutto In un unico E solo video Perché Sinco Sai editare XD XD Quindi Noi ci vediamo In un prossimo episodio Bye bye Right behind you Ciao 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 Grazie per aver guardato il video.